Buongiorno a tutti, rido perché è un lavoro un po' complesso, una signora che è una mia cliente, dobbiamo cambiare il look, ok? Perché è stata via per lavoro e quindi non ha avuto tempo di venire da me e gli hanno fatto un enne, l'enne purtroppo tende a dare il perdite e quindi c'è da togliere tanto. Faremo un lavoro di sfumatura naturale, ma chiesto gentilmente se diventa bionda e io parlo di tutto per farla diventare bionda, la mia principessa, perché è giusto. La cosa che mi preoccupa l'enema, lo vediamo dopo, le mie mani se sono riuscite a essere magiche, come sempre, eh? Sì, 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 ok. Allora, anche qui il miracolo, ma miracolo, ma proprio un miracolo. Molto miracolo. Un miracolo, dalle 10, sono le 5.20, cioè voglio dire. Miracolissimo, Melina bravissima. Ho risolto un problema, ma un problema grosso, cioè. Di verde. Verde, aveva la comometria la signora, eh? Cioè, abbiamo avuto un po' di panico, tutte e due, però abbiamo risolto il miracolo, eh? Perché gli hanno fatto un incidente di percorso, questo lo devo dire proprio chiaro. La signora ha fatto questo incidente, gli hanno pigmentato, poi gli hanno messo dei colori un pochettino aggressivi e purtroppo è uscito tutto il verde e oggi voleva il problema, voleva che io risolvessi il suo problema e Melina l'ha risolto. L'ho risolto, eh? Bravissima, come sempre. Io ho fatto il mio meglio, ho fatto il mio meglio perché non potevo uscire arcobaleno oggi. Non si può, non si può. Ci ha dato il massimo. È la mia prova del 9, essendo una specialista del colore. Sabrina mi ha dato carta bianca perché era disperata. Merita, merita. Melina veramente non delude mai, assolutamente. Io ti ringrazio della... C'è la cosa... Oggi l'ho vista nera, sono sincera. Verde, l'avevo vista. Sì, perché ho fatto la crometria, però ho risolto la maggior parte del problema. Assolutamente. Sono contenta. Melina per sempre. Io ti ringrazio della felicità. Mi sono spaventata oggi, veramente. Ok.